E' finito il periodo della non belligeranza. Mussolini è convinto che Hitler oramai vincerà la guerra. La Francia è piegata e ha bisogno di una manciata di morti per sedersi al tavolo dei vincitori. Così c'è la dichiarazione di guerra, l'attacco alla Francia, una pugnalata alle spalle come verrà considerata. Intanto l'invasione della Grecia, perché anche lì avremmo dovuto spezzare le reni ai greci. Un errore fatale. In quel momento il regime era al massimo del consenso. L'entrata in guerra dell'Italia decisamente impreparata, decisamente al di sotto dei mezzi, non soltanto dei tedeschi ma anche dei nostri rivali alleati, provocherà una catastrofe enorme. Lutti, distruzioni, sangue. Tutto terminerà nel 1943 con l'armistizio dell'8 settembre. Ma per arrivare alla pace ci vorranno ancora altri due anni. 20 anni di regime fascista dunque si concludono nel modo più tragico e in fausto che potessimo aspettarci.